ed eccovi il signor antimo dedito al lavoro all'abbattimento di questo grande albero qui a fianco abbiamo salve raffaele buongiorno come è stata l'esperienza di abbattere buongiorno ciò a te io ci saluto e poi mi vado la mano guarda il bambino e tutti mi metti ma tu mica mi hai imparato a lavorare ahahahah e ai ai chatti a qui andate si può dare la mano no 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 saluto un attimo a giovanna raffaele buongiorno tutto a posto ciao giovanna no ha fatto il tè no no sto scherzando no no è meglio che non lo prendi perché andi ma io faccio parlare non meglio che fai l'attività ciao antimo ciao